Buongiorno a tutti, mi chiamo Ivan Vasowski, sono allenatore Newfit. Oggi stiamo uscendo con un nuovo video di allenamenti a casa, quindi cominciamo con un piccolo riscaldamento, poi vi mostro un bellissimo circuito di sportivi americani, di grappling, quelli che fanno a casa, quindi il circuito si fa solo con un bilanciere, con qualsiasi tipo di peso, si può fare senza staccarsi in 10 minuti, un circuito perfetto, però prima dobbiamo fare il riscaldamento, cominciamo. Prima del tutto facciamo solo corsa, solo corsa. Prima del tutto. Oh, schiena. Ponder. Grazie a tutti. 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 5-7 minuti fino a 10 minuti. Ok, dopo il riscaldamento che abbiamo fatto, facciamo il secondo step. Quindi secondo step cominciamo a fare il circuito. Quindi prima di cominciare dobbiamo sistemare i nostri pesi, dobbiamo agganciare bene tutto, mettere le occhiette, dobbiamo essere sicuri che il niente non cade. E cominciare. Ok. Tutto facciamo da 10 minuti. Ok, dopo aver fatto 10 squat, prendiamo un broncere sul petto, facciamo 10 spacco. 1, 2, 1, 2, 3. Adesso sta chiaramente. Ok. 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 Ci sono 25 salti con 3 passetti. Questi giri dobbiamo fare 3 volte. Quindi più o meno potete mettere il cronometro. e quando cominciate il cronometro in funzione. Questo lavoro dura più o meno 3, 4, 5 minuti. Quindi vi serve poi 5 minuti per recupero e riprendiamo il giro. Cominciamo il secondo giro. Facendo il secondo giro io metto ancora un esercizio. Quindi flessioni dobbiamo fare anche. Per quelli che si sentono bene anche con il primo giro possono rimanere facendo questi esercizi. Per quelli che vogliono aumentare un po' possono mettere ancora un esercizio. Adesso vi mostro. Quindi saranno pittorali, flessioni, piegamenti delle braccia. Qui. Perch questo qua e Il secondo giro l'abbiamo fatto e abbiamo messo ancora un esercizio di riementi. Ok, cominciamo. Quindi facendo il mio circuito, che di solito fanno lottatori grapplers o quelli che fanno jiu-jitsu o quelli che fanno MMA o quelli che fanno box, in generale lotta e non solo. Quindi io vi spiego come fare meglio questi circuiti e vi darò qualche consiglio ai miei segreti personali. Quindi una piccola guida, come noi possiamo solo con un bilanciere diversificare il nostro lavoro. Come avete osservato, nel primo giro io facevo movimenti molto più lento e i movimenti erano molto più ampi, più larghi e quindi la velocità era lenta e il movimento più lungo. Il secondo giro ho fatto molto più veloci e i movimenti più corti. Quindi, se noi non usiamo pesi, usando questo principio di velocità, noi possiamo creare una piccola inerzione. Creando inerzione di bilanciere, il bilanciere si comporta come un bilanciere più pesante. Quindi possiamo cambiare qualche principio di lavoro. Cambiando la velocità, diamo un altro carico al nostro muscolo. È un piccolo segreto che vi può aiutare a diversificare il vostro lavoro e sentirsi un po' più, diciamo, un po' più allenato solo con un loggetto, con un bilanciere. Facciamo il terzo giro. Ok, primo. Primo abbiamo fatto lento. Secondo, abbiamo fatto un po' più veloce, non stop. E terzo, faremo squat in questo modo. Secondo, abbiamo fatto un po' più veloce, non stop. Invece di fare spinta, facciamo torciare. Cambio la presa, metto il braccio un po' più stretto. Cambio la presa, metto il braccio un po' più veloce, non stop. Cambio la presa, metto il braccio un po' più veloce. Oh giusto per finire noi non finiamo completamente finiamo il nostro circuito di oggi ci vedremo poi quindi per quelli che non possono fare french press in piedi quelli che hanno problemi in zona lombare hanno qualche problema con articolazione con flessibilità con forza con gomiti con le spalle non hanno pesi quindi io vi propongo cambiare esercizio per precipiti con questo qua io mi siedo metto braccia un po più largo allungo un po le gambe il zona lombare sempre accanto vicino alla pancreas quindi così si può trovare una alternativa di esercizio french press in piedi io vi auguro ci vediamo a presto insieme ce la faremo